Sindaco, per l'antimafia il fenomeno delle baby gang a Napoli è paragonato ai narcos missicani? Non ho capito per chi? Per l'antimafia e le baby gang... Antimafia è che lei che intende? La commissione parlamentare? Sì, sì, il CSM. Antimafia, le narcos mi sembra un accostamento un po' fuori luogo. Avendo fatto 15 anni il magistrato mi sono occupato sia di baby gang che di trafficanti internazionali di droga e mi sembra che sono due cose che in comune praticamente non hanno quasi nulla.